Ben ritrovati a questa nuova stagione di Cattoliche d'Intorni, la rubrica di informazione e di cultura dell'Università Cattolica che da oggi tornerà nelle vostre case per raccontarvi la vita del nostro Ateneo. Oggi siamo venuti qui a conoscere le nuove matricole e gli studenti che in questi giorni si apprestano a percorrere una nuova tappa della loro formazione. Per loro l'Università ha organizzato una giornata chiamata Benvenuta a Matricola per fornire loro alcune indicazioni utili su come orientarsi in questo nuovo viaggio. Andiamo a conoscerli in questo servizio. Ateneo 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 Sono già abituati ecco e quindi parlano arabo praticamente. Eri dentro alla presentazione anche tu? Sì. E ti è risultata utile? Sì, ho fornito quelle informazioni necessarie per avere almeno una presentazione generale a facoltà dell'Università. Tu a che facoltà ti sei iscritta? Linguistica Lingue Allo Stars Lettere, letteratura, scienze linguistiche e studiere Lettere moderne, cultura e storie Storia, conservazione e beni culturali Lettere moderne, filologia Progetti Progetti per il futuro già? No Zero Bene Io sinceramente non lo so, ho scelto relazioni internazionali e vediamo Lingue perché mi piacciono e penso anche siano molto utili proprio per il lavoro poi però non ho idea ancora di che lavoro fare Non so ancora E che cosa pensi di fare? Che prospettive? Per quale ragione ti sei iscritto? Chi te l'ha consigliata? Non sono consigliata da solo e ho preso quello di management e turismo per quanto riguarda perché mi piace viaggiare e stare in mezzo a tanta gente, insomma Te l'ha consigliata qualcuno? La cattolica? No, ho guardato un po' gli opuscoli così, sono venuta all'open mind e mi ha ispirato subito, proviamo Perché avete scelto proprio la cattolica? Perché volevamo fare lo start e quindi era in cattolica e poi ci piace, ci sono detto che i nostri amici si trovano bene qua Quindi ve l'hanno anche consigliato? Sì Sì Te l'ha consigliata qualcuno? No, è più una scelta personale che ho fatto senza ascoltare consigli E perché è proprio in cattolica? Comodità per quale? Sì, perché è l'unica università che insegna qua a Brescia lettere, poi anche come prestigio, come nome, insomma, abbastanza Va bene, grazie mille, ciao Un video ha mostrato loro i principali servizi della sede, vediamolo insieme Oramai sede i nostri, cara matricola, per aiutarti a vivere meglio l'università cattolica, scopri chi siamo e che cosa ti preoccupare possiamo offrire La nostra sede ha compiuto 40 anni, una storia che ha visto susseguirsi generazioni di studenti e che oggi è pronta ad accogliere anche te Tre le sedi dove studiare Via Trieste 17 Via Musei 41 E Contrada Santa Croce 17 Tu ora sei nella sede centrale, dove si svolgono la maggior parte delle attività accademiche, lezioni, esami, seminari e conferenze Qui puoi trovare anche tutti gli uffici amministrativi, che presto imparerai a conoscere Hai dei dubbi e non sai come muoverti? Non preoccuparti, passa dall'ufficio informazioni Oppure contatta il tutor di gruppo, ogni facoltà ne possiede più di uno Se invece hai problemi di natura personale o relazionale, sappi che in cattolica è attivo il counseling psicologico La segreteria studenti diventerà un luogo a te molto familiare Da lì dovrai passare per il piano di studi, il libretto degli esami, rilascio di certificati e se tutto andrà bene Noi ci teniamo molto ad averti tra i nostri laureati anche il diploma di laurea Ma fai attenzione a non perdere d'occhio il calendario delle attività e delle scadenze Da queste parti sono piuttosto fiscali Alla porta accanto chiedi cosa devi fare per ottenere una borsa di studio Potresti anche studiare senza pagare nulla Oppure informati sugli alloggi convenzionati O sulle agevolazioni per mensa, libri ed altro ancora Per sopravvivere basta organizzarsi Consulta sempre il sito web dell'Ateneo Qui troverai anche iCAT, la pagina personale dello studente Per tenere d'occhio la tua carriera universitaria Per avere comunicazioni dirette e personalizzate dalle segreterie Per dialogare direttamente con i tuoi docenti Ma anche semplicemente per consultare l'agenda universitaria E se alla tastiera non sei molto abile Iscriviti ai corsi organizzati dal servizio informatico di Ateneo Presso i numerosi laboratori presenti nelle sedi Ai quali potrai accedere liberamente Insomma tutto ciò che ti serve per vivere in facoltà La tua formazione non si può fermare a Brescia Il servizio relazioni internazionali nel corso dell'anno Ti proporrà di studiare e fare stagi in Europa Attraverso i programmi Erasmus e Leonardo Ma anche fare esperienza oltroceano in Australia, America, Africa Con i progetti Working Experience Abroad e Oversea Se la lingua straniera non ti è così familiare Iscriviti a uno dei corsi gratuiti di inglese, francese, tedesco e spagnolo Organizzati dal servizio linguistico di Ateneo Libri, film e supporti multimediali Per alcuni anni i tuoi compagni di viaggio Molti di questi li puoi trovare nella fornitissima biblioteca Marcolini Li puoi addirittura prenotare per il prestito direttamente da casa tua E se non trovi quello che cerchi fra i 150.000 volumi presenti in sede Chiedi ai ragazzi del banco come fare per inoltrare la richiesta ad altre biblioteche Sappi che da queste parti si sta bene anche a studiare Per accedere a internet prenota un posto nella saletta multimediale Per prepararti agli esami dovrai acquistare molti libri Se vuoi risparmiare a pochi passi dalla sede centrale trovi la libreria dell'università Qui sono disponibili tutti i volumi previsti nel programma dei tuoi esami Ma anche le ultime novità editoriali Non dimenticarti di richiedere subito la tessera fedeltà della libreria Con la quale potrai avere alcuni prodotti di cancelleria in regalo Benvenuta dunque cara matricola Siamo davvero orgogliosi di averti con noi Il nostro augurio finale è che tu viva un'esperienza di studio costruttiva, serena e soprattutto rapida Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti